Vedrete come gestiamo questi numeri, come li manipoliamo, come Stein ci ha dato una mano importante nella gestione di questi numeri, abbiamo connesso le presse al sistema, quindi tutte le rilevazioni che erano manuali fino a qualche anno fa sono diventate automatiche e ci siamo sicuramente semplificati la vita. Noi siamo nati dal sensore, siamo saliti dal gestionale di turno, ma facendo così siamo riusciti a parlare la stessa lingua delle macchine e la stessa lingua degli operatori, che è una cosa estremamente importante per chi poi deve digitalizzare i processi produttivi, perché un conto è fare prolungo dal gestionale, è un conto invece partire dalla macchina ma soprattutto dall'operatore e salire poi invece fino al sistema gestionale. Per noi è importante avere degli strumenti che lavorano molto bene, le presse e gli stampi, avere uno strumento che li misura. E la nostra idea è inizialmente partita dal reparto stampaggio per inserire un software come Stein, ma a mano a mano che l'ho conosciuto, a parte ci siamo conosciuti molto velocemente in 3-4 mesi, visti, piaciuti, analizzato, sposati e poi siamo partiti col progetto. Ho capito che questo strumento era molto importante anche per il reparto assemblaggio. Di fatto noi dopo il primo anno di analisi di questi numeri abbiamo capito che dovevamo concentrarsi molto di più in assemblaggio che in stampaggio, ma prima non lo sapevamo. Ciao a tutti!